Questo camper in giro per l'Italia in questi giorni qua. Seguirci su tutti i nostri canali, campiangip.com, su Facebook, su Instagram, sul trenino che passa e anche su YouTube. E se postano una foto, cosa facciamo? Se postano una foto... Che non sei studiato? Vai Maria, se postano una foto noi gli regaleremo non uno, non due, ma tre gadget. Che sono? Che sono. Cappellini, magliette, occhiali da snoopy, occhiali da sole, ciabatte, pallone, fazzolettini. Un saluto a tutti voi che ci seguite. Baci. Un saluto a tutti voi che ci seguite. Un saluto anche da parte di Mario. Mario, attenzione che se fai ancora un posto indietro, ti aspirano. Ciao a tutti. Alla prossima diretta che è su Facebook dove ti diremo il saluto a tutti i campi e i villaggi dove stiamo andando. Ciao ciao.